questa immagine, questa imposizione o viceversa depressione, come sfuggire? diventando io la legge cioè se io confliggo con la legge cioè con quello che dovrei essere con quello che devo diventare se confliggo con essa ho scariche di angoscia se aderisco ho scariche di depressione l'unica cosa che posso fare terza soluzione è diventare io stesso il meccanismo che mi opprime divento la legge e questo è il sistema tipico cioè io provento quello che mi opprime e in questa maniera questa è la macchina poi della produttività, dell'efficienza va bene, ma questa è che ci avventuriamo poi su campi completamente che ci portano lontano dal tema centrale di questa sera che invece è l'amore e qui l'amore viene precisato come sostensione del tempo nell'amore la morte è questa spada che abbiamo sulla testa ciascuno di noi viene in qualche maniera sospesa il tempo viene sospeso e la morte è anche un tema centrale qui in questi muoiono un po' tutti ma la morte qualcuno di noi sfugge a questo destino? per adesso no perché questo è un altro dato culturale al quale ci dobbiamo fare riferimento perché noi abbiamo sempre visto la morte come un destino pure la sinistra pure la cultura alternativa tutte le culture hanno sempre visto che la morte è un destino inevitabile ma perché? cioè qual è la logica della morte? la morte è accettata dal se accettata dal divino se c'è un paradiso certo abbiamo sistemato tutto ma la realtà è un po' diversa il meccanismo vita-morte cioè la morte è è il momento necessario per far sopravvivere la specie ossia il ciclo vita-morte-vita cioè il mio pacchetto genetico passa al mio figlio lo passa al figlio di suo figlio e il pacchetto genetico l'informazione sopravvive modificandosi riuscendo a competere a migliorare questo è il disegno liberandosi delle carcasse che ha occupato e migliorando continuamente la propria capacità di competizione con la natura e con le altre specie questo è il disegno cioè la morte è funzionale alla vita ma non è un destino perché se è funzionale alla vita per far migliorare la genetica noi abbiamo un genoma davanti non abbiamo più bisogno di morire per far perfezionare il nostro sistema genetico non abbiamo più bisogno di morire perché per far sopravvivere la specie la specie può vivere quello che fa la natura lo possiamo fare noi davanti al genoma per fare questo discorso fare questo discorso è estremamente complesso perché c'è un'improvviso un'improvviso a barriera che si apre davanti alla mente di tutti quanti perché tutti quanti vedono nella natura qualcosa alla mamma